Il titolo di questa mostra ha come riferimento il racconto lungo di Arthur Schnitzer di primo novecento, Doppio sogno, e l'ultimo film di Kubrick, Eyes Wide Shut. Cosa dicono queste due opere? Il sogno è un luogo della complessità, è un luogo della tentazione, della deriva, è un luogo indubbiamente pericoloso. Le ultime immagini del film vedono Bill e sua moglie Alice, lei dorme, lui che è rimasto tutta la notte nella veglia, sono in quel momento, occhi negli occhi, nella grande difficoltà della comunicazione. La soluzione sarà qualcosa per Kubrick, che è quella che abbiamo sposato io e Luca Beatrice quando abbiamo immaginato questa mostra, cioè che solo l'arte, la pittura, la scultura e la poesia sanno in qualche modo redimere, salvare, se non addirittura far defragrare ciò che è il terrore della vita. E Vangi con il suo cielo, con questo basso rilievo che mette in contatto ciò che è esterno, le grandi statue monumentali, con la pittura che verrà fra qualche sala, ebbene Vangi ci permette di considerare sempre il sogno come il cielo aperto, la finestra sulla verità. Dunque una buona visione. Il teatro è il luogo di rappresentazione per eccellenza del sogno, dove incubi, dove storie, dove il rimosso, viene a galla nelle opere di alcuni artisti moderni e contemporanei, come il Circo di Botero, un artista che tutti quanti noi conosciamo per la sua grande popolarità, ma ritroviamo queste stesse immagini anche per esempio nelle trasfigurazioni di natura poverista di Claudio Parmigiani, oppure nella pittura di giovani artisti contemporanei. Prendendo in prestito il titolo di una famosa raccolta di saggio di Guido Almassi, Teatro del Sogno, abbiamo voluto accostare le opere d'arte contemporanea e moderna a frammenti di poesia, racconti dell'ora in cui l'arte si confonde ancora con il sogno. Io credo che la vera idea fista, l'ossessione della pittura, sia il paesaggio. Che cosa sia il paesaggio è un grande mistero. Probabilmente è quando lo sguardo del pittore e lo sguardo di chi vede trovano un punto di ipnosi, una ipnosi quasi complementare. Certo, questo è proprio il tema fondamentale di Andy Warhol. Warhol crede con Vesuvius che un'immagine possa resistere a patto che non abbia più rapporto con il tempo, ma con la sua ripetizione e questo non è molto distante dal miraggio che voi potete vedere di Mario Schifano. Anche lì una luce pura, nuda, selvaggia, quasi astratta. Questo lo ritroviamo anche negli altri quadri. Ottomania di Salvo, questo pittore di questi luoghi di Torino che riesce veramente a raccontare nella rarefazione della luce come la naturalezza e l'astrazione convivano e lo possiamo ripetere in Stefanoni, in Ortona e anche in Nunziante che reputa gli interni e gli esterni come la stessa identica condizione dello spazio. Il paesaggio, in fondo, è un'illusione, anzi no, è un doppio sogno. A partire dagli anni Ottanta il rapporto tra l'arte e il tempo cambia radicalmente. Non ci troviamo più in una fase, diciamo così, evoluzionistica darwiniana in cui ogni avanguardia tenta in qualche misura di superare tutte le altre, ma finalmente la storia viene riletta in una maniera più disinvolta, meno conflittuale, eccetera. E sempre più nell'arte contemporanea si riaffaccia così il tema della memoria, attraverso l'uso della citazione, attraverso l'uso del ricordo, attraverso la manipolazione di fonti dall'antico e soprattutto la memoria del passato che riemerge nell'arte, creando così una sorta di tempo sospeso, di tempo metafisico che perfettamente si adatta ai quadri di Giorgio De Chirico arrivando fino alla contemporaneità di oggi. Che il viaggio sia il concetto centrale dell'arte, specie nell'Occidente, è troppo semplice da dire in questo momento, ma che il quadro di Ramella verso Itaca sembra rimettere in movimento tutta la cultura classica, ma fino a Cavafis, e che Itaca sia un luogo solo del viaggio, non importa dove si arrivi, l'importante è che questo viaggio continui. Ebbene, che l'idea del viaggio la possiamo ritrovare anche nella macchina di White o in quello strano treno di Pignatelli, quel treno dove sta andando? Verso la libertà? Verso la rivoluzione? È il treno di Lenin o il treno che porta la povera gente a Birkenau, a Auschwitz? È un punto delicato quel treno, ma Vitale Velasco con la sua vela sembra stringere in un unico equilibrio il ragionamento che sto facendo. Fui pronto a tutte le partenze, diceva Giuseppe Ungaretti. La vela di Velasco è semplicemente questo, viaggiare è un modo per cambiare noi stessi, ma se cambiamo noi stessi continuiamo a cambiare il mondo e nel divenire c'è il doppio sogno dell'arte. In queste due sale, che abbiamo voluto chiamare panico così, pensando alla paura, pensando anche al disordine che il tema del sogno può in qualche misura portare allo spettatore, ci sono tre opere di arte contemporanea molto diverse tra di loro. La prima è quella di Damien Hirst, che viene considerato a tutti gli effetti forse l'ultimo enfant terrible della scena inglese, un artista ormai famoso in tutto il mondo che con il suo squalo da 12 milioni di dollari ha stupito il mondo dell'arte intero. Qui presentiamo una sorta di medicine cabinet, uno dei suoi lavori più celebri degli anni 90, che rimanda appunto al tema della malattia, della chirurgia, delle operazioni. Accanto a lui un grande lavoro della fase finale di Alighiero Boetti, il tutto. Con tutto Boetti voleva tentare di includere il mondo intero nella propria rappresentazione, sempre attraverso gli arazzi, sempre attraverso il cucito, il colore, un'idea di mondo che fa vedere in qualche misura che rimanda appunto non soltanto al tema dell'Occidente, ma anche quello di mondi lontani, l'Oriente in particolare. E per ultimo il dipinto di Daniele Galliano, pittore piemontese, classe 1961, uno dei più ricchi talenti appunto dell'arte contemporanea locale, che è esposto anche alla Biennale di Venezia nel 2009, con un quadro che si intitola Urbi e Torbi, anche qui l'idea di voler rappresentare il mondo attraverso piccoli tasselli di pittura grigia, non un colore, ma un non colore, che però diventano a un certo punto trionfo cromatico. Dire che il nudo sia un elemento tipico, quasi accademico della pittura, dell'arte è certamente un dato plausibile, ma nel Novecento la pittura non cerca il nudo, bensì la nudità. La nudità è un luogo assolutamente immaginario. Guardate Casorati, con questa schiena che ha molto a che vedere con la pittura di Cézanne e in parte quella di Renoir. Casorati racconta una schiena di nudità totale, che possiamo ritrovare addirittura nell'immagine debordante, quella di Bernardo Siciliano con Nicole. Quest'immagine di donna, meravigliosa come un bronzo di riace al femminile, in realtà sta raccontando qualcosa di molto antico, un'immagine che viene dal mondo degli assiri, la potenza che è anche in Papetti, Papetti che sta guardando in realtà qualcosa di mantegnesco, una donna, una nudità che colloquia con la morte, così come Siciliano che voleva colloquare con l'origine della vita. E Stoisa e Ontani cosa raccontano? Il Narciso, la luce lunare del Narciso in Luigi Stoisa e Ontani, il suo outing anno. Abbiamo David, abbiamo le Sabine, il ratto delle Sabine, ma con Ontani abbiamo qualcosa di formidabile, il concettualismo dell'immagine che vuole diventare improvvisamente un profil per diù. Cosa abbiamo perso quando vediamo la nudità? Tutto o niente, ci rimane solo la fantasia. Doppio sogno, il titolo di questa mostra, deriva dal racconto di Schnitzler, da cui peraltro Stanley Kubrick trattò uno dei suoi film più famosi, l'ultimo film. E in questo caso il tema del doppio si incrocia con quello del ritratto, testimonianza del fatto che la pittura riesce ancora ad attualizzare uno dei generi più antichi della sua storia. In un itinerario che parte dalla metafisica di De Chirico e di Savinio, che attraversa l'arte degli anni settanta e degli anni ottanta con le opere di Alex Katz e di Omar Galliani, arriviamo fino ai giorni nostri con il lavoro di un pittore ancora una volta piemontese, peraltro molto famoso all'estero, Valerio Berruti, che ha letteralmente sdoppiato il ritratto. È una figura di bambina, un tipico soggetto della sua poetica, che si specchia come appunto in un qualche cosa di magico che appartiene ancora una volta alla storia della pittura e del ritratto. La parola più delicata della filosofia greca, cioè la base di tutto, è alefeia, che vuol dire verità. Ma l'etimo è il seguente. La verità è tutto ciò che non puoi dimenticare, dunque tutto ciò che ritorna. E questo l'abbiamo visto anche nel Novecento con il padre Federico Nice. Che cosa vuol dire il ritorno nella pittura? Certamente la corale di Mimo Paladino è questo, è mettere insieme ironia e tragedia in un canto che permette alle parole di ritornare, di non consumarsi mai. E indubbiamente questo lo possiamo vedere anche nel Prototype 3 di PENC, che è un'idea di metropoli, un'idea di città, che sembra avere tutti i tetti aperti perché è trasparente e invisibile rispetto al mondo. E gli altri ritorni? Sandro Chia. Sandro Chia con The Tempest vuole disegnare, dipingere qualcosa che ha molto a che vedere, forse la citazione di Scipione è molto presente, molto a che vedere con i titani. Ecco, la verità è nell'origine. E il passaggio dunque definitivo, quello di Fetting a Desmond Cadogan, che è il mito del graffitismo americano, è raccontare un uomo felice che corre per le vie di New York. I ritorni sono la verità dell'arte. Solo ciò che ritorna, solo ciò che possiamo ricordare è qualcosa di vero. Ciò che non possiamo ricordare è il nulla della chiacchiera della vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.